Per cui io farò una breve introduzione di un quarto d'ora, cercherò di essere rapido, dopodiché il professor Benanti parlerà delle implicazioni di tipo deontologico e etico legate allo sviluppo di queste tecnologie che inevitabilmente modificheranno sicuramente il modo in cui facciamo medicina nel futuro. Approfitto per dare un saluto a tutti i presenti. Sono molto felice di essere qui in occasione di questo 32esimo congresso elettivo. Faccio il mio in bocca al lupo al dottor Guido Quici per questo nuovo mandato e sono felice anche di ritrovare dei vecchi amici che ho conosciuto negli anni, nel passato, prima che questa pandemia arrivasse e colpisse tutti quanti. Mi ricordo infatti, stavo pensando, l'ultima volta che ci siamo visti ad un evento dell'ordine quando è stato, ottobre 2019, appunto, a casa, diciamo così, a Venezia del dottor Giovanni Leoni, appunto, assieme anche al presidente Anelli per un incontro appunto FNOMCEO in cui si dà tutta la rilevanza possibile anche al momento in cui questi giovani medici prestano il giuramento di Ippocrate. Chi avrebbe mai pensato poi che il mondo sarebbe così cambiato e che adesso ci sia così grande bisogno di certezze e di avere una maggiore confidenza con quello che è la sanità. E quindi voglio dare la parola adesso al vicepresidente di Cimo. Anche se io, peraltro, in questa veste, più che vicepresidente di Cimo, sono neurologo e neurofisiologo perché devo parlare di un argomento un po' particolare che però sicuramente segnerà le nostre vite future. Non di noi che siamo abbastanza su con l'età, ma dei nostri colleghi che seguiranno sicuramente sì. Io mi sono cominciato a occupare di intelligenza artificiale 15 anni fa perché avevo fondato una start-up, si chiama Neuronica, che fa stimolazione cerebrale profonda e anche registrazione da cellule profonde nel cervello. Questo sarà uno sviluppo futuro che consentirà di fare anche la cosiddetta Brain Machine Interface e Brain Computer Interface, cioè comandare macchine o computer dall'esterno con il pensiero, essenzialmente. Però adesso faccio una breve carrellata per introdurvi l'argomento. Poi penso che il professor Benanti tratterà delle implicazioni, come vi dicevo, di tipo etico legate allo sviluppo di queste tecnologie e ce ne sono molte di implicazioni etiche, tant'è vero che lui ha cognato un bellissimo neologismo che a me è piaciuto molto perché prima di invitarlo mi sono andato a studiare tutto Benanti. Quindi sono oramai un conoscitore abbastanza profondo della sua opera. E si chiama algoretica, cioè l'etica degli algoritmi. E proprio partendo dall'algoritmo, voi vedete qua ciò da cui è partito tutto, a mio modo di vedere, che è questo tizio che si chiama Abu Jafar Mohammed e Ben Musa Al-Qarizmi. E Al-Qarizmi è in arabo una nisba, cioè è un'identificazione del luogo da cui proviene. Lui è nato in Corismia, che è una zona intorno al lago Dharal, civiltà arabo-persiana, e dalla latinizazione del suo nome Al-Qarizmi viene il nome algoritmo. Cioè questo signore ha inventato gli algoritmi. Quello è un francobollo celebrativo dell'Unione Sovietica perché allora l'Uzbekistan era nell'Unione Sovietica. Ma non si è limitato a fare quello. Da un suo libro viene anche il nome Al-Jabbar Algebra, perché ha inventato pure l'algebra, e ha portato la numerazione posizionale dall'India nel mondo islamico e poi nel nostro mondo occidentale. Per cui un numero ha un valore diverso a seconda della posizione in cui è, e non come i numeri ebrei o latini che vengono scritti con delle lettere e non consentono questo tipo di cose. Però andando rapidamente, il sogno dell'intelligenza artificiale è sempre stato presente nella mente umana. Qui vi ho messo alcuni esempi, dalle metamorfosi di Ovidio con Pigmalione e Galattea, per passare a Frankenstein di Meriscelli, al Golem del Rabbino Löw. Qui ci sarebbe da parlare per ore di tutti questi argomenti, ma qui abbiamo dieci minuti e lo riassumiamo. Poi vedete l'omunculus di Paracelsa, in fondo vedete HAL di 2001, di Sennelo Spazio. Quindi da sempre l'uomo ha cercato di costruire delle macchine pensanti che lo potessero aiutare nella sua attività quotidiana. La nascita dell'intelligenza artificiale si fa risalire al 1961, poi vediamo perché, ma già da prima, già da Turing, eccetera, era una disciplina che riuniva, vedete, tantissime altre discipline diverse nella filosofia linguistica, filosofia, scienza dell'informazione, logica matematica e matematica, e cibernetica, naturalmente. Anche su ognuno di questi protagonisti ci sono degli aneddoti molto divertenti, ma non abbiamo purtroppo il tempo di dirvi. Cioè, forse il processo di Norbervina era talmente distratto che, avendo la famiglia cambiato indirizzo e la moglie sapeva che era molto distratto, aveva mandato la figlia all'indirizzo precedente, temendo che il padre non riuscisse a ricordarsi dove abitava. Infatti lui arriva all'indirizzo precedente, sale, bussa, fa per entrare, e la figlia gli dice ma papà non abitiamo più qui. Gli dice ma bambina, ma dove sono finiti i vine? Gli dice ma papà non abitiamo più qui. Non aveva riconosciuto la figlia perché stava pensando a chissà cosa. Questa è la nascita ufficiale dell'intelligenza artificiale, questo lavoro scientifico fatto dal research project di Dartmouth. E questa è la timeline dell'intelligenza artificiale, a partire dal test di Turing, che è un test che ti dovrebbe garantire che se tu non riesci a vedere il tuo interlocutore non puoi capire se sia un essere umano o una macchina. È un po' più complicato di così, ma comunque il succo è questo. Se tu non riesci a capire di stare parlando con un computer, vuol dire che quel computer ha sviluppato un'intelligenza artificiale. Poi ci sono altri progressi, ovviamente fino ad arrivare, anche Rumba, anche quello che pulisce la casa, le proprie abitazioni, si fa la mappa mentale delle varie stanze, capisce quali sono le più sporche, le meno sporche, va a pulire dove deve andare a pulire e anche quell'intelligenza artificiale. Ma il passo fondamentale è stato prima Deep Blue dell'IBM, che ha sconfitto il campione mondiale di scacchi, che allora sembrava una cosa impossibile, ma in realtà abbastanza banale, perché la scacchiera e i pezzi hanno determinate mosse che possono essere benissimo previste, conosciute da un computer che può analizzare milioni di alternative possibilità, quindi è impossibile per l'uomo battere il computer a scacchi. Fino ad arrivare a Watson, che è stato il primo computer dell'IBM che capiva il linguaggio umano e lì c'è stato il salto più grande, cioè poter comprendere il linguaggio umano, esprimersi con il linguaggio umano, ovviamente facilitato i rapporti uomo-macchina. Poi ci sono i chatbot che sono venuti dopo, moltissime persone parlano con dei robot, non sanno che sono dei robot, pensano che siano degli esseri umani e ci sono state anche polemiche legate al fatto che questi chatbot che utilizzano le reti neurali imparano dai contatti che hanno in rete, per cui se chi telefona e parla con loro, per esempio è successo con alcuni casi, Microsoft ha ritirato questo chatbot 12 ore dopo che l'avevano messo fuori perché avevano chiamato dei neonazisti, avevano imparato a inneggiare a Hitler, a fare il saluto nazista e lui ogni volta che uno parlava di un argomento tirava fuori questa cosa e mi sono stato costretto a chiuderlo. Quindi imparano ovviamente e non hanno bisogno di essere istruiti alla base, come era in precedenza fino a pochi anni fa. Qui vedete i gradi di intelligenza artificiale e vi faccio solamente vedere l'ultimo, il deep learning, che è quello che vedete in fondo, che è quello più avanzato di adesso ed è quello che ti consente anche, per esempio, il riconoscimento facciale, il riconoscimento vocale, cioè tutte attività che l'uomo svolge a livello inconscio ma che fanno già parte della coscienza umana. Poi vedremo che intelligenza e coscienza non è la stessa cosa, però con le reti neurali e il deep learning ci si avvicina sempre di più a questa frontiera che è importante. E lì vedete rappresentato ovviamente che le reti neurali profonde hanno una capacità di impatto enormemente superiore a tutte le tecniche precedenti. E qui si arriva anche alla seconda rivoluzione cognitiva che poi penso padre Benanti magari accenderà in parte a questo. È uscito un libro di Yuval Noah Harari che è questo storico israeliano che aveva fatto in precedenza un libro sulle origini dell'uomo che si chiamava Sapiens. Questo è il secondo Homo Deus in cui lui, ovviamente rifacendosi anche a tutte quelle tendenze moderne del transumanesimo eccetera quindi creazione di cyborg cioè non fare più solamente medicina riparativa ma fare anche medicina potenziativa per esempio impiantare all'interno del cervello dei chip che ti possono aumentare la memoria oppure costruire un esoscheleto che ti può aumentare la forza sempre comandato ovviamente col pensiero. E questo libro per chi lo vuole leggere è veramente molto interessante. Qui vedete la crescita dei dati che c'è stata ultimamente e sapere che dalla nascita dell'umanità fino al 2006 si è calcolata una quantità di dati raccolti che voi vedete rappresentata nella prima colonna e voi vedete come esponenzialmente le cose stiano progredendo per cui siamo in un punto in cui tra poco probabilmente le performance del computer supereranno di gran lunga quelle umane e lì entra in gioco forse i problemi che affronterà padre Benanti perché a quel punto lì i problemi etici saranno sicuramente molto molto rilevanti. Ci sono anche delle religioni che sono sorte perché ovviamente il carattere tra virgolette messianico dell'intelligenza artificiale non può essere completamente scotomizzato. Ci sono persone che hanno lavorato in questo ambito che ritengono per esempio come fa questo Lewandowski che è uno che lavorava alla guida automatica prima per Google e poi per Uber e aveva portato via da Google dei segreti che poi Uber ha sfruttato e per questo è stato poi licenziato anche da Uber che ha fondato questa religione che si chiama Way of the Future che si basa sull'ipotesi che i sistemi di intelligenza artificiale saranno in grado di creare collettivamente un essere senziente che gradualmente arriverà all'omniscienza. Come dicevo prima padre Benanti io questa cosa qui l'avevo ritrovata quando mi ero interessato a Teilhard de Chardin questo famoso gesuita che cercava di coniugare la teoria dell'evoluzione con la fede cattolica non riuscendoci è stato scusatemi è stato mandato in Cina promoveatur utamoveatur e da lì ha continuato la propria opera e lui praticamente cosa sosteneva? Sosteneva che la biosfera sia evoluta fino alla comparsa degli organismi intelligenti la cui massima espressione in teoria saremo noi anche se ultimamente comincio a avere dei dubbi ma a questa si sarebbe aggiunta la no sfera che è un substrato cognitivo che incrementa la propria coerenza fino ad arrivare al dominio totale della biosfera e formare un essere metafisico che lui chiamava il Cristo cosmico ma che coloro che affrontano laicamente il problema chiamano praticamente una specie di Dio creato dall'intelligenza collettiva dell'umano e del postumano che arriverà a questa cosa a questo proposito dicevo prima fuori che c'è un racconto di Asimov che si chiama The Last Question l'ultima domanda in cui ci sono questi computer sempre più intelligenti a cui però l'uomo pone sempre la stessa domanda cioè la domanda è come faccio a fermare l'entropia come faccio a invertire la seconda legge della termodinamica per evitare la morte termica ovviamente e il computer risponde sempre non c'è risposta non c'è niente da fare purtroppo l'universo è condannato alla morte termica non puoi fare niente passano i millenni passano decine di migliaia di anni questi computer sempre più sofisticati in rete milioni di computer in rete alla fine arriva questo pone la stessa domanda a questo super computer e il super computer dà una risposta abbastanza sconvolgente che ti fa capire come Asifox avesse letto sicuramente Treyar Descendente perché il computer risponde Fiat Luxe cioè praticamente è diventato Dio e ha ricreato ha fatto il bootstrap dell'universo di nuovo e l'ha ricreato a partire dall'inizio no? va beh qua non abbiamo tempo di accertarci qui ci sono opere musicali e anche haiku giapponesi fatti dai computer per cui anche il fatto che si dica che il computer non è in grado di fare elaborazione di tipo artistico potrebbe non essere molto molto vero futuro prossimo e per quel che riguarda la medicina due minuti e poi smetto e lascio la parola agli altri perché siamo abbastanza in ritardo ovviamente l'impatto dell'intelligenza sul lavoro medico sarà sicuramente massiccio ci sono alcune specialità come la dermatologia l'oncologia in parte la cardiologia ma soprattutto la radiologia in cui l'attività dei colleghi sarà fortissimamente influenzata dall'intelligenza artificiale come in parte lo è già adesso cioè per esempio per le diagnosi di tipo dermatologico e anche radiologico ci sono lavori scientifici in cui mediamente fanno vedere che mentre il professionista arriva una diagnosi corretta nel 91-92% dei casi la macchina ci arriva nel 96-97% quindi è più precisa per esempio immaginate su una risonanza magnetica in cui quello che conta sono le differenze di contrasto se tu puoi analizzare milioni di pixels automaticamente ovviamente avendo in memoria milioni e milioni di diagnosi precedenti con le loro caratteristiche ovviamente sei meglio dell'uomo però la cosa molto interessante è che la somma della diagnosi fatta dall'uomo e dalla diagnosi fatta dalla macchina porta l'accuratezza al 99% sembra poco ma passare da 92-99% è una cosa enorme vuol dire che il 7% dei pazienti che tu perderesti perché fai una diagnosi sbagliata li recuperi attraverso questa tra virgolette alleanza uomo-macchina qui vi ho messo una serie di articoli che parlano della trasformazione della nostra attività e anche dell'health care in generale qui per esempio dice causerà delle disruption nella workforce dei radiologi cioè i radiologi conterranno di meno saranno di meno saranno meno necessari secondo questo che l'ha scritto sì sarà così un'altra cosa importantissima che fa l'intelligenza artificiale è consentire la cosiddetta medicina di precisione attraverso la via informatica consente di fare questa cosa e anche dal punto di vista della ricerca sperimentale è importantissima perché voi vedete lì che fino ad adesso la metodologia classica cosa ti faceva fare ti faceva porre un'ipotesi a priori la dovevi verificare con degli esperimenti e in base ai dati che ottenevi creavi delle nuove ipotesi che andavi a verificare con la possibilità di avere i big data le prime due passaggi vengono scotomizzati è il computer che ti dice dove andare per generare ipotesi quindi riduce molto il tempo della ricerca e lo riduce anche perché ci sono sistemi che adesso sono in grado di creare valutare centinaia di migliaia di molecole al giorno centinaia di migliaia di molecole al giorno questo è anche importante nelle fasi pandemiche ed epidemiche per la creazione di nuove molecole che possono servire come trattamento vabbè qui vedete quello che in parte vi ho già detto entra nel dettaglio ci vuole molto tempo non l'abbiamo ma quello che è importante è che con i big data la bioinformatica traslazionale la medicina di precisione noi possiamo costruire una terapia che non si basa solamente come è stato classicamente sulla patologia di quella determinata malattia ma tiene in considerazione il profilo genetico dell'individuo tiene in considerazione l'ambiente in cui l'individuo vive e anche le abitudini che ha quindi è una medicina che va è come un sarto che ti fa un abito su misura rispetto a uno che lo va a comprare all'OVS no per dire più o meno il paragone è questo questo ve l'ho già detto lo saltate il futuro un altro aspetto importantissimo è il management delle biobanche cioè abbiamo biobanche dove ci sono tessuti sia biologici ma ci sono anche dati di tipo per esempio elettrofisiologico che si basano sui segnali elettrochimici del cervello del sistema nervoso periferico ovviamente con questa potenzialità e capacità di analisi la diffusione della conoscenza è molto amplificata in maniera enorme amplificata un'altra cosa importante è come andrà a modificare il lavoro del medico sul territorio il medico di medicina generale ci sono anche qui una serie forse Olivetti le conosce una serie di applicazioni che consentono di marcare per esempio quello che si chiama behavior home che sarebbe il comportamento dell'individuo oppure anche di avere colloqui col paziente misurandone anche la pressione l'artrate per capire se il paziente ha determinate domande si emoziona o no e quindi valutare anche l'impatto psicologico della malattia eccetera qui ve ne avvencate qualcuna ce ne sono molte Babylon è la più famosa ma non è l'unica di questo vi ho già detto per esempio vedete qui la nostra macchina ha migliorato il tasso di valutazione delle molecole di 10.000 volte quindi il lavoro che prima facevi in 10 anni lo puoi fare in due giorni e quindi un'altra cosa è il paziente virtuale qui per esempio anche dal punto di vista della didattica universitaria verso i medici avere la possibilità di creare pazienti virtuali che vengono visitati per esempio dallo specializzando è molto importante perché fino adesso cosa avveniva? C'avevi tre pazienti nel letto erano sempre quelli lo specializzando usciva diceva agli altri cosa aveva il paziente ovviamente la cosa si risolveva in maniera diciamo così un tantino non perfettamente in linea con gli standard che dovresti avere con il paziente virtuale questa cosa la puoi fare tranquillamente l'olografia medica tu adesso puoi vedere un organo girarlo di 360 gradi vedere come è fatto dove è la patologia questo è un altro sviluppo e poi l'ultimo la interfaccia cervello macchina cervello computer è quella che vi dicevo all'inizio attraverso la registrazione di segnali cerebrali o di segnali del sistema nervoso periferico io sono in grado di comandare per esempio una protesi un arto protesico cioè io penso al movimento e l'arto lo fa cioè legge i segnali cerebrali e li trasforma in un comando meccanico operativo questo ovviamente è estremamente importante poi ci sono altre cose cioè entri in casa pensi di accendere la luce e ti si accende ma questo è abbastanza meno rilevante anche se succederà in un tempo relativamente breve questo è quello che facciamo noi quando facciamo le registrazioni da popolazioni neuronali quando facciamo gli impianti cerebrali tu per esempio prendi segnali da queste popolazioni neuronali li analizzi e li puoi trasformare in comandi che poi puoi dare al paziente definizione di intelligenza qui entriamo un secondo solo per dirvi che c'è una grossa differenza tra l'intelligenza e la coscienza cioè l'intelligenza è la capacità di dedurre informazioni di ritenerla sotto forma di conoscenza e applicarla a comportamenti adattativi e questo i computer e le macchine lo fanno molto bene meglio degli uomini perché è un'attività di tipo computazionale la coscienza invece è un processo biologico peculiare esiste solo se c'è qualcuno che la sperimenta quindi la macchina non ha coscienza in questo momento coloro che fondano queste religioni come avremmo visto quella precedente cercano di dare la coscienza al silicio cioè adesso la coscienza è appannaggio del carbonio quindi degli esseri viventi ma secondo loro si potrà arrivare anche a quello ci sono però alcuni studiosi come questo Dreyfus che dice che siccome non tutta l'attività può essere formalizzata matematicamente sotto regole e leggi predictive il comportamento umano è influenzato dal contesto quindi la macchina ha un comportamento che non è influenzato dal contesto se lo mettete nel deserto dell'Arabia o al polo nord sempre che riesca a reggere le temperature per la macchina uguale è un esempio banale ma dico in qualsiasi ambiente la macchina agisce allo stesso modo l'uomo no e inoltre Weizenbaum e qui finisco dice che è fondamentale la distinzione tra decisione e scelta allora lui dice la decisione è un'attività computazionale in qualche modo può essere programmata e in questo i computer sono molto più bravi dell'uomo perché hanno a disposizione la capacità di analisi di milioni di dati simultaneamente la scelta invece è il prodotto di un giudizio e non di un calcolo e il giudizio la macchina ovviamente non lo può dare e qui finisco mi scuso se ho fatto un po' lungo ma erano molti argomenti grazie grazie al dottor Barbieri per questo escursus storico anche sull'intelligenza artificiale per averci fatto capire la grande potenzialità di questo strumento in quella che è la vostra attività medica anche se per fortuna queste macchine questi cervelloni sono sempre strati ideati e costruiti dall'uomo quindi è innegabile che ci sia anche un approccio etico relativamente all'intelligenza artificiale perché a me fa un po' impressione lo dico personalmente quando a decidere sono le macchine e non gli uomini anche perché mi viene a pensare che le macchine si basano per lo più su dei dati ma invece poi le scelte dell'uomo non arrivano non vengono realizzate soltanto attraverso dei dati quindi ho quasi paura di una sorta di automatizzazione della cognizione umana se così si può dire quindi vorrei capire meglio da padre Benanti appunto quali sono i limiti anche dell'intelligenza artificiale bene grazie buonasera diciamo che con così tanti temi aperti vivo la favorevole condizione di chi non è costretto a dare risposte di fronte a così tante domande io farò un'altra cosa farò altre domande ecco perché la prima questione è qual è il ruolo dell'etica rispetto alla tecnologia cioè in che senso si può parlare di etica delle tecnologie ecco se non chiariamo questa prospettiva rischiamo di fare dell'etica una cosa che non è rischiamo di non capire qual è la questione eticamente significativa che un'innovazione come quella dell'intelligenza artificiale fa oppone una disciplina come la disciplina medica come parlare di etica delle tecnologie beh mettiamola così fino a ieri si parlava di tecnologia e di etica secondo una relazione che c'era tra un artefatto tecnologico tutta una cosa che ha un manicum cioè un qualcosa che si connette alla mano l'etica del bisturi stava nella mano del medico o al massimo la potevamo porre all'interno di quell'etica professionale dell'ingegnere che quando vi vende uno bisturi di un certo tipo certifica che l'acciaio è di un certo tipo eccetera 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 bene però questo non è più bastato a partire dagli anni 80 del secolo scorso io ho fatto parte dei miei studi a Georgetown negli Stati Uniti e uno dei miei professori di riferimento a London Winner che è l'apertura della disciplina faceva sempre due esempi per dire cosa significa l'etica delle tecnologie il primo arriva da Manhattan negli Stati Uniti bene Richard Moses grande politico colui che ha fatto di Manhattan quella che è oggi colui che ha progettato palazzi porti autostrade è colui che ha fatto la Parkway quella bellissima strada a sei corsie che permette agli abitanti di Manhattan di andare a Long Island di andare in spiaggia ecco se voi percorreste la Parkway vedreste quello che si vede facendola uno asfalto e cemento dei ponti se noi andiamo a leggere però dai ticisti della tecnologia la vita l'autobiografia di Richard Moses uno metto degli anni 40 lui aveva una visione di società abbastanza precisa oggi forse inaccettabile ma al suo tempo condivisa i posti migliori di New York dovevano essere per le persone migliori e allora come si fa a tenere solo l'app middle class in grado di andare a Long Island in particolare a Johnson Beach togliamo i treni non c'è trasporto di massa e facciamo i ponti in calcestruzzo due piedi una cinquantina di centimetri più bassi dello standard così gli autobus non passano solo la white middle class aveva la macchina solo la white middle class andava in spiaggia ecco l'eticista della tecnologia vede dietro l'artefatto tecnologico una forma d'ordine e una disposizione di potere allora ora che tra il paziente e il medico non c'è più il calcestruzzo non c'è solo l'acciaio non c'è solo la molecola ma c'è un algoritmo l'algoritmo ha la stessa funzione del ponte è una disposizione di potere è quello che consente o non consente una diagnosi medica di accadere o non accadere è quello che consente perdonatemi a un paziente di essere in lista per fare il vaccino o non fare il vaccino cosa in cui tutti gli italiani sono trovati di fronte quando hanno dovuto mettere il codice fiscale dentro il portale ecco allora l'algoritmo è un'organizzazione di fatto della stessa disciplina perché ora quello che consente a un radiologo di operare o non operare una diagnosi è un algoritmo e questo algoritmo non appartiene alla scienza non appartiene allo Stato ma siccome è chiuso da un progetto di copyright appartiene alla società che lo sviluppa quindi nella verticalità della professione vi parlo con termini tecnici della disciplina si inserisce un middle layer abilitante che è proprietà di altri centri di potere se prima facevate i medici con il titolo di Stato che vi veniva dato alla fine di un percorso anche duro ora si farà il medico con il titolo di Stato più l'abilitazione software sul sistema come questo cambia il sistema dipende da come organizziamo la digitalizzazione del sistema a chi la appaltiamo come la strutturalizziamo eccetera 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 quindi cosa fa l'etica delle tecnologie fa domande scomode come le faceva Socrate che si chiedeva qual è il senso di questa cosa che sta accadendo secondo esempio ecco il secondo esempio avviene sempre prendiamolo sempre questo mio professore da una cosa che succede negli anni 70 in California negli anni 70 l'università della California qui tradisco il mio passato da ingegnere sviluppa una raccoglitrice di pomodori meccanica che fa passare il costo di raccolta di pomodoro per tonnellata da 15 dollari a 2 dollari bella cosa la macchina passa sopra i filari prende i pomodori scarta le cose tutti nelle cassette eccetera eccetera nel 74 c'erano 3200 piccole fattorie in California nell'82 siamo scesi a 240 perché? è perché la macchina costava 170 mila dollari l'equivalente oggi di mezzo milione di dollari e l'innovazione costa e solo chi se la può permettere rimane sul mercato cioè la vera questione non è che l'intelligenza artificiale farà estinguere il radiologo o il radiologista per dirla più all'inglese ma il radiologo che si potrà permettere di utilizzare l'intelligenza artificiale farà estinguere il radiologo che non se lo può permettere c'è una concentrazione del mercato c'è una concentrazione in base a queste capacità e oltretutto c'è anche un'altra questione perché il pomodoro dagli anni 70 in America doveva resistere alla compressione meccanica di queste chele che raccoglievano da solo il prodotto questo che cosa comporta ecco questo comporta che hanno dovuto selezionare un pomodoro diverso più in grado di resistere e il pomodoro però non sa di niente è cambiato il prodotto ecco se noi prendiamo quello che sta accadendo all'interno del mercato per esempio delle notizie che sono tutte lavorate da algoritmi c'è una concentrazione del mercato chiudono i giornali a favore delle piattaforme e la notizia che si vende di più è la notizia che è meglio lavorata dall'algoritmo e questo significa che anche il prodotto che in questo caso era una compromissione esistenziale tra una persona che si definisce come medico e una persona che si comprende come fragile e paziente cambia natura ecco queste sono le sfide ma sono solo queste le sfide no mi avete chiamato io vi faccio un bel quaresimale da vecchio frate convertitevi o morirete tutti ecco quale altra sfida c'è perdonatemi siamo alle 6 avete fatto il break lasciamo un po' le cose un po' così ecco c'è una prima sfida che è chiaramente l'idea che la macchina decide sui dati e qui permettetemi di raccontarvi una storia vi racconto una storia bellissima di un ebreo durante la seconda guerra mondiale che si chiamava Abramwald che abitava in una zona che oggi è della Romania all'epoca era della Germania nazista e capite che con l'occhio lungo lui ha detto o scappo o qui faccio una brutta fine scappa e va in America e dall'America contribuisce a sconfiggere i nazisti durante la guerra Wold non spara mai un colpo non guida un aereo non getta una bomba Wold era un matematico un matematico statistico e lavorava in un gruppo di ricerca che era l'SGR che era un gruppo di ricerca segreto che stava a Manhattan non il gruppo Manhattan che si occupava di quello che gli ingegneri chiamano ricerca operativa cioè ottimizzazione statistica del recapito del risultato perché? è perché gli americani hanno capito subito che avrebbe vinto la guerra non chi aveva più capitano America più eroi ma chi aveva il 5% in più di aere il 5% in più di munizioni eccetera eccetera primo problema su cui si concentra Wold e il suo collega Friedman che poi vincerà il premio Nobel è un problema alquanto specifico la seconda guerra mondiale è una guerra tecnologica ecco gli aerei che sono strumenti mirabolanti perché sono più pesanti dell'aria e volano sono stati sviluppati in tempo di pace quindi volano ma colpiti dai proiettili della contraerea hanno la brutta caratteristica di precipitare beh come facciamo a farli resistere? blindiamo gli aerei ma blindare gli aerei significa semplicemente renderli più pesanti e quindi meno capaci di risolvere di volare per risolvere questo a Wold e Friedman danno una mappa segretissima che è una mappa della distribuzione statistica dei fori sugli aerei quando tornano alle missioni se voi vedeste la mappa ora non ve la proietto ci sono un sacco di fori sulle ali sulla sezione centrale e sulla sezione finale della coda bene signori se questi sono gli effetti la cosa più intuitiva da fare è più fori più blindatura Wold fa un'obiezione eh signori ma questi sono i fori dei proiettili che tornano alla base e in effetti basta un colpo al motore o al pilota alla sezione di coda che quello va giù cosa vuol dire questo che queste macchine prodigiose che lavorano sui dati ignorano una caratteristica che una variabile a valore zero non è una variabile insignificante e allora queste nostre sistemi di analisi che noi sviluppiamo marcando per esempio immagini digitali in cui riconosciamo presenza di carcinomi o altro sono le immagini di quelli che riconosciamo non di quelli che non riusciamo a riconoscere questo che si chiama tecnicamente il survivor bias cioè l'errore sistematico della sopravvivenza ci dice che la cognizione non può essere automatizzata in questo senso che c'è bisogno di un qualcosa d'altro ecco questo appartiene al processo ingegneristico che fa un delivery del software o no ecco questa è una questione etica fondamentale in questo momento queste soluzioni software vengono sviluppate pagando pochissimo delle persone che stanno in India a cui si fanno dieci ore di lezione in videoconferenza questi fino al giorno prima facevano i contadini questi marcano le cose pagando poco e nutrendo la macchina terza questione terza questione è l'effetto che questo assume edico facciamo prima un esempio banale io ancora mi ricordo il numero di telefono delle persone con cui a 16 anni andavo a giocare a pallone 06 944 poi il resto lo togliamo per privacy oggi quanti numeri di telefono vi ricordate? pochissimi perché ci pensa Google ci pensa il cellulare allora già ci sono studi e paper molto importanti su quanto la cartella clinica produca un deskilling del medico in Emilia Romagna almeno in Emilia Romagna sono sicuro sul 118 ci abbiamo per il massaggio cardiaco un insieme di robot e respiratori sincronizzati che fanno un massaggio cardiaco allora da corso di BSDM classico tutti sappiamo che ci abbiamo 180 colpi per tentare di animare una persona 3 minuti poi i muscoli cedono cade l'efficienza perdonatemi se è troppo ingegneristica la questione è poco medica ma e quindi c'è meno possibilità di far sopravvivere il paziente e addestriamo un operatore sanitario ad arrendersi dopo 180 colpi ora abbiamo questo sistema connesso robot robotico di fascia che costringe il torace e alimentatore ad ossigeno e respiratore che dopo 20 minuti è ancora il 99% di efficacia e chi ha formato quell'operatore dopo 99 minuti dopo 20 minuti ad arrendersi si è invertito il problema e soprattutto tutto il deskilling che facciamo nell'operatore se un giorno gli serve di rifarlo a mano come fa? ecco questo è un problema che vi riguarda di più rispetto a un approccio alla carriera medica che è un approccio che si prolunga nel tempo terza e ultima cosa avete sentito che questa è una macchina correlativa cioè tiene insieme i dati ecco permettetemi di giocare con voi un pochino sapete dove c'è maggiore incidenza di tumore a rene negli Stati Uniti? non c'è quante ne sa questa dovrei leggere di più la Bibbia e meno i paper però mi fanno leggere i paper ve lo dico io piccole cittadine in zone poco abitate in stati con poca popolazione e che votano democratico perché avete sorriso? perché avete detto non può essere che votare democratico fa venire poco il tumore a rene prova controfattuale dov'è che ci sono maggiore incidenza di tumore a rene piccole cittadine zone poco popolose in stati poco abitati che votano repubblicano allora siccome il voto non è connesso al tumore a rene qualcuno di voi avrà pensato vabbè migliore la qualità della vita per questo muoiono di meno i tumori a rene qualcun altro ha detto beh lì ci sono peggiori assistenza medica ecco perché non lo prendono ed ecco perché muoiono ne sono delle due perché in realtà si tratta di una distribuzione statistica se io avessi qua un vaso pieno di palline rosse e bianche perfettamente miscelate e vi dico pescatemi due palline dello stesso colore 50% delle possibilità è che sono dello stesso colore 4 4 è 12,5 7 scendiamo a 1,25 ecco che cosa vuol dire che nei campioni piccoli l'evento estremo è più frequente allora quello che unisce i due risultati sono niente di meno che due piccoli campioni sono tanti e sono pochi perché i campioni sono piccoli questa cosa che vi ho appena dimostrato non è un difetto è una caratteristica della cognizione umana che si interfaccia però con un'intelligenza artificiale voi avete un sistema di cognizione veloce ben addestrato perché siete medici specie quando state al pronto soccorso a cercare una causa e il vostro pensiero causale di fronte a 5 dati che io vi ho detto correlati tra loro perché erano 5 dati correlati è stato cercare una causa qui non c'era nessuna causa era una probabilità di distribuzione statistica e allora cosa sarà la scienza medica e la validazione della conoscenza medica di fronte a una macchina che con estrema facilità e velocità vi fa vedere quali sono i dati correlati come formare il medico di domani perché questa sorta di sistema uno automatico lo chiamerebbe Daniel Kahneman che vuole cercare una causa in tutto quello che succede non venga ingannato dalla diffrazione ottica prodotta dal sistema digitale ecco mi spiace che ho fatto più domande che risposte ma vivere ora le domande è quello che Rilke diceva in lettera a un giovane poeta per avere un qualcosa di qualità buon lavoro e a voi le risposte in tutto questo deve fuggire? 5 minuti 10 minuti ce l'abbiamo una curiosità ma l'intelligenza artificiale è sostenibile nel senso perché siamo sempre preoccupati appunto della salute che ci riguarda noi delle persone però parlando anche della salute del pianeta allora io vi ho vi ho un po' barato con voi perché ho messo l'intelligenza artificiale nella relazione medico-paziente e ho fatto un po' il cuaresimale da frate e vi ho fatto venire un po' paura se noi non la mettiamo al posto della diagnosi ma la mettiamo come un sistema che legge per esempio lo stato di un ospedale a me va benissimo che l'intelligenza artificiale se io sono al pronto soccorso mi dica adesso nella media quanti minuti mi servono da aspettare se oggi in quest'ora del giorno io chiedo una TAC perché faccio un triage e oriento gli esami che chiedo in una maniera molto più efficace se so qual è la capacità di risposta della struttura allora l'intelligenza artificiale come sistema di ottimizzazione per un'azione complessa come può essere quella di una struttura sanitaria è molto interessante e anche molto sostenibile chiaro tutto questo ha un costo energetico era questo penso il senso della domanda immagino a tutti questi big data dei cervelloni megacartici che ci stanno allora io se devo dire la verità google dice di essere carbon negative ormai da un anno cioè che emette più ossigeno di quanta CO2 emette però la verità è che si sono comprate delle foreste da altre parti quindi insomma la somma funziona nulla è gratis è chiaro che facciamo questo esempio tra una persona che monta su due tonnellate di ferro due tonnellate e mezzo di ferro si sposta di cinque chilometri e vive due ore in un ambiente climatizzato sto parlando del cinema e lo streaming di quel contenuto sul suo computer energeticamente conviene lo streaming allora è chiaro che qui bisogna fare un bilanciamento di sistema perché se dell'intelligenza artificiale è quella cosa predittiva che io uso per diminuire i costi energetici è un conto perché se lo uso per diminuire i costi medici io l'ho fatto come avete visto Watson sono stato abbastanza cattivo Watson è il primo sistema di intelligenza artificiale che indovina le domande quando tu gli dai le risposte ecco mi hanno detto gioca con Watson io gli ho detto a Yorktown gli ho detto siete sicuri siete sicuri sì 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 io gli ho chiesto come si toglie il cancro dal mondo e lui senza pensarci basta uccidere l'uomo è vero il sistema è ottimizzato e la derivata va a zero però non è accettabile ma quella è un'equazione quello è un punto di zero dell'equazione il punto più facile è che costa di meno però non è accettabile come si fa a togliere il covid? tutti quelli in zona rossa ammazzi tutti il covid non c'è più non è accettabile allora è chiaro che rispetto a questa cosa della sostenibilità non c'è solo quella del costo energetico ma c'è anche di quello che significa la scelta se scegliamo su dei valori che sono numerici e dei valori che non sono etici allora siccome non siamo solo i nostri dati ma abbiamo altre fonti di valore è chiaro e qui io parlo a un corpo intermedio come un sindacato che secondo me il ruolo del sindacato in una mediazione di rinnovamento della struttura come abbiamo sentito dire dal ministro è quella di ricordare dove stanno una serie di valori perché il modo con cui noi organizziamo la struttura sarà il modo con cui rispettiamo non neghiamo creiamo un'organizzazione di potere come direbbe il mio amico il mio professore Landon Wiener all'interno di un dispositivo siccome voi siete i medici che vivete questo tipo di trasformazione ecco i medici di dopo domani si gireranno a voi e vi diranno che avete fatto oppure grazie al cielo avete fatto questo ecco questa cosa non accadrà spontaneamente accade in una medicina che è anche un mercato per quanto sia offerta dallo Stato secondo alcune dinamiche ma il fornitore di servizi è un fornitore che sta sul mercato è qui che secondo me un corpo intermedio ha una speciale vocazione nell'orientare nell'ordinare quello che è una frontiera dell'innovazione vi chiedo scusa devo scappare ma ho una scusa bellissima devo andare a fare messa ditemi di no meravigliosa beh io non posso che lasciarla andare buon lavoro e buona missione che c'è un grande bisogno grazie a padre Benanti alla mia sinistra Alberto Olivetti dopo un intervento presidente EMPA ma dopo un intervento del genere non è semplice prendere la parola perché sono state messe sul campo così tante suggestioni forti che riguardano e coinvolgono proprio i medici che a me ha messo anche un pochino di inquietudine non so se esattamente cioè mi sono resa conto io lo conoscevo quindi di quanto importante debba essere tutto quello che concerne per voi per i medici la formazione cioè siamo pronti per questa trasformazione così grande imponente per quanto riguarda la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale indubbiamente è una bella domanda fare le domande giuste come lui ha citato Socrate io ricordo che Bernard Russell disse dei pressocratici che non avevano azzeccato le risposte ma le domande le avevano fatte tutte giuste quindi già fare domande giuste si è un pezzo avanti l'impressione è che il futuro ci potrà stupire e nel in questa potenzialità di stupore perché poi vediamo che non ci azzecchiamo mai ormai anni che non becchiamo una previsione media dovremmo avere probabilmente dei modelli di sviluppo nuovi al di là dei tentativi di ripresa di rilancio eccetera che si dovranno basare su quello che oggi viene definito un nuovo equilibrio sociale cioè il problema sociale allora a me piacerebbe per parlare di formazione pensare anche non come è stato detto medico-paziente ma la medicina e la società cioè come interagiscono tra di loro naturalmente sotto l'impasto e lo stimolo della digitalizzazione prima e soprattutto dell'intelligenza artificiale poi io credo che mi sarebbe piaciuto fargli una domanda a Paolo la nostra società oggi o forse domani non lo so dire è pronta a reggere dal punto di vista della tenuta dell'equilibrio che si cerca di raggiungere non c'è ovviamente il concetto di poter supportare o sopportare i super sani perché perché se è vero tutto quello che si è detto ed è vero la medicina di precisione personalizzata predittiva preventiva oggi abbiamo degli strumenti straordinari dal punto di vista del genoma dell'editing genetico il CRISPR case 9 con la possibilità di fare il tagliacucci insomma sul sulla base di tutto ciò naturalmente l'impressione che chi potrà farà e chi non potrà starà a vedere quindi l'evoluzione dell'intelligenza artificiale nello stupirci ci stupirà anche nel grado di potenzialmente dare una nuova una nuova linea alla diseguaglianza sociale perché una volta il super ricco aveva un sacco di soldi potrebbe essere anche ignorante perché si comprava i saggi però se c'era la gotta la gotta se la tenessi in un prossimo futuro con l'uso e l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla medicina alla medicina di precisione alla medicina specifica non potrà aumentare le diseguaglianze sicuramente le ridurrà in termini di fruibilità media della conoscenza però potrebbe generare secondo me anche delle bolle di diseguaglianza chiamo il super sano per dare un'idea concettuale chiaro che qui entra anche un concetto di democrazia evidentemente seconda domanda che mi piacerebbe fare il metodo scientifico tutti noi lo usiamo siamo tutti figli del metodo scientifico chi non fa il metodo scientifico è fuori eccetera eccetera il metodo scientifico alla fine è un metodo sostanzialmente di ipotesi che devono essere validate poi per carità la frontiera avanzata cambia e quindi quello che era Popper diceva la falsificabilità deve essere la stella polare non la dimostrazione che è vero perché se no è un dogma quindi naturalmente il metodo scientifico faceva ipotesi e con la deduzione si arrivava a delle azioni che dovevano essere verificate sapendole che un domani potevano essere a loro volta falsificate però c'era un certo determinismo causa effetto ancora oggi nel ragionamento del clinico c'è la causa e l'effetto prima Benanti ha parlato di 5 vi ho dato 5 fattori voi avete ragionato e quindi siete arrivati a una soluzione quindi c'è il ragionamento oggi la fisica quantistica ha dimostrato che in realtà non esistono caso effetto esistono probabilità e la grande capacità computistica che dà la fisica quantistica che dà la possibilità di agire per induzione e non per deduzione potrà trovare tante di quelle connessioni più o meno logiche variabili a 0 o poco più di 0 o poco meno di 0 che però potranno aprire nuovi mondi di relazioni del resto un principio classico della fisica quantistica che fa risultare Einstein in difficoltà è quello di dire chi misura modifica il misurato tant'è vero che un elettrone non sapremo mai se sta da una parte o dall'altra perché se lo misuriamo non è verificabile quindi possiamo andare avanti per probabilità il probabilismo legato appunto all'intelligenza artificiale poi queste bestie avranno una capacità di portare all'estremo la capacità di avere correlazioni induttive non ci potrà un po' smontare il nostro metodo scientifico allora ritorno alla domanda alla formazione noi la formazione la facciamo su quel che sappiamo e ci auguriamo che quanti più medici possibili ottengano quante più conoscenze possibili dai dati e delle informazioni sulla base di quello che sappiamo però la frontiera del sapere potrebbe modificare non tanto il volume dei saperi ma potrebbe modificare anche l'approccio al sapere e questa è la vera il futuro ci stupirà appunto quanto ci potrà stupire da questo punto di vista e le le questioni importanti si diceva no la decisione è la scelta e la scelta si avvale di un qualcosa che non è soltanto la razionalità ma diventa anche il libero arbitrio se vogliamo competente di conoscenza ma che libero arbitrio se il metodo dal cui nasce questa intuizione questa capacità soggettiva dovesse vedere modificate l'alimentazione dalla quale si nutre cioè quindi la formazione classica quindi l'impatto dell'intelligenza artificiale ci potrebbe veramente stupire è evidente che allora quel discorso di perimetrazione etica della frontiera avanzata credo che debba essere doverosa io chiamai più che perimetrazione dobbiamo filospinare con l'etica la grande capacità di conoscenza del deep learning perché ci può veramente cioè veramente può venire fuori la risposta come guariamo il crancro ma siamo gli uomini abbiamo risolto il problema la vittoria del silice inorganico verso il carbonio organico poi alla fine se la vogliamo ridurre al massimo e quindi il ragionamento della scelta va anche secondo me sul ragionamento del senso che è una poi delle domande fondamentali che ci facciamo nella vita noi esseri minimi e molto finiti il senso della vita e credo che anche le scelte che dovrò fare nel futuro quindi aggiungendo alla decisione alla razionalità della decisione e delle evidenze anche questa variabile indipendente ma dipendente dal grado dello sviluppo della conoscenza con la quale l'intelligenza artificiale ci metterà a confronto penso che appunto ci potrà stupire nulla è dato per scontato tutto ciò detto quindi le mie non sono manco domande sono dubbi sostanzialmente però mi nascono nel ragionare di questo tutto ciò detto e qui adesso mi ritorno e se mi mandate quella diapositiva unica che avevo questa piattaforma che avete lanciato e qui adesso ritorno molto sul pratico in fondazione Empam che ragionamento abbiamo fatto proviamo a renderci utili anche per il futuro io ho avuto questa questa fissa fissa veramente Empam ha un dipartimento della previdenza un dipartimento dell'assistenza e un dipartimento del patrimonio perché con patrimonio dobbiamo fare la mia fissazione facciamo un dipartimento del futuro perché se un dipartimento del futuro non lo prova a fare un ente di previdenza chi è che lo deve provare a fare allora adesso non lo chiamiamo dipartimento del futuro dipartimento dell'innovazione futuro eccetera però la razza è quella proviamo a cercare di anticipare anche se ovviamente non è che pensiamo da qui a 50 anni com'è la proiezione per la nostra sostenibilità che ci chiedono i ministeri non arriviamo a quel grado di sofisticazione intellettuale noi ci interesserebbe sapere cosa come anticipare quello che accadrà tra sei mesi tra un anno e non è poco di questi tempi con l'accelerazione che c'è allora vorremmo creare un osservatorio che chiamiamo tech to talk che è un progetto di empowerment dei nostri iscritti quindi medici i dentisti che operi sul fronte dell'innovazione della frontiera avanzata ed è un mare in costante movimento della conoscenza scientifica della science del mondo della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale per poter combattere un po' della nostra stupidità naturale quindi poter dare una piattaforma che nel suo presuntuoso obiettivo vorrebbe essere una fonte di aggiornamento di apprendimento costante o anche per avere l'ultima news da parte del mondo medico perché crediamo in questo modo di fare un servizio questa slide insomma illustra tutto quello che vorremmo fare ma sostanzialmente si può sostanziare in informazione con delle evidenze e poi un domani magari anche dei tentativi di fare formazione su argomenti specifici vorremmo arruolare le belle teste che ci sono che ci fanno queste domande imbarazzanti nella convinzione che il futuro sarà sicuramente migliore e ci stupirà e allora da questo punto di vista è il nostro modo di metterci al servizio della generazione che verrà non soltanto con la logica delle previdenze chi lavora mantiene chi ha lavorato ma anche provare a dire cerchiamo di costruire qualche fonte qualche sgorgo qualche rivolo di conoscenze in più per chi volesse esserne interessati tutto bene avete visto come parlando di intelligenza artificiale abbiamo parlato anche del senso della vita siamo arrivati a parlare del senso della vita non male Eva posso dire una sola cosa non so se per chiudere quello che ha detto padre Benanti una cosa fondamentale è la differenza tra correlazione e causalità è pieno di lavori scientifici che scoprono l'acqua calda perché tu con la correlazione puoi dire tutto il contrario di tutto ma non ha nessun senso se non la inquadri in un discorso di causalità però volevo finire dicendo che quando mosso da un impeto giovanilistico in questa fase oramai di penombra dell'esistenza mi sono iscritto a facebook per poter parlare con le mie specializzante essenzialmente mica peraltro la mia unica attività è quella lì allora allora io avevo messo sai che a volte metti una frase che ti dovrebbe descrivere la mia frase è stata presa da un famoso rabbino di cui adesso per senilità non ricordo il nome ma mi verrà in mente che diceva questo le cattive domande non meritano risposta le buone domande non hanno risposta quindi ecco perché si fanno domande non si dà risposta so che a te è servito